le ha letto buonasera benvenuti a un altro appuntamento con trieste in diretta quest'oggi abbiamo come ogni venerdì la coda rappresentata da star bene in tv che andrà in onda dalle 19 alle 19 23 e avremo ospite il dottor dario bianchini direttore della struttura di prima medica e il dottor antonio de chiara che il responsabile infermieristico sempre della prima medica nella prima parte della trasmissione siamo in compagnia di mila lasic drammaturga e regista che ringraziamo per essere venuta a trovarci che ha curato un'iniziativa che andrà in scena il prossimo 7 di febbraio al al teatro miela ed è un'iniziativa che vuole essere un omaggio a pedra matvejevic che è scomparso due anni un anno fa un anno fa l'iniziativa si intitola uno spettacolo multimediale che si intitola abbreviario mediterraneo e all'interno del all'interno nel senso è un'iniziativa collaterale alla mostra nel mare dell'intimità che si tiene al salone degli incanti fino al primo di maggio ho fatto come sempre un'introduzione piuttosto lunga della quale chiedo scusa ai telespettatori e all'ospite ma adesso possiamo possiamo incominciare a parlare allora uno spettacolo multimediale in che senso è facile come domanda semplice? sì la domanda sembra semplice ma in effetti è lo spettacolo multimediale perché non è un spettacolo classico non è una non è un reading non è solo un recital ma è una combinazione di musica reading proiezioni site specific per cui è un diciamo un'opera un po corale di diversi autori perché abbiamo le letture che sono scelte diciamo del breviario mediterraneo legge Filippo Borghi che è l'attore di teatro stabile sì il giovane attore promessa del teatro sì e abbiamo abbiamo il come musiche che sono state fatte appositamente per lo spettacolo di Max Urchev e abbiamo una giovane anche promessa una designer di luce Silvia Clay che organizzerà luce abbiamo con noi un artista di site specifico un artista multimediale visual Cecilia Donaggio Luzzatto Feghiz e sono e all'inizio faremo diciamo una cosa un po straordinaria è proiezione di un cortometraggio che è ambientato proprio a Meliglia e questo non è per caso perché Matuevich dichiara più volte ha dichiarato che Mediterraneo è diventato la frontiera tra l'Europa e il Mediterraneo tra l'altro semmai c'è un autore che ha trattato proprio l'Adriatico è proprio lui quindi insomma una mostra che racconta dell'Adriatico non può prescindere appunto da Matuevich e fondamentalmente è anche giusto probabilmente omaggiarlo multidisciplinarmente e verrebbe da dire anche multilinguisticamente no perché nel senso della mostra ma immagino anche nel senso proprio della scrittura di Matuevich della poetica politica di Matuevich più voci meglio è sì ma diciamo non è casuale diciamo fare una cosa multilingue perché che dopo magari spiegheremo meglio ma perché Matuevich Breviario Mediterraneo è stato tradotto in 21 lingue europee e in più è stato tradotto in arabo anche due volte in arabo perché è stato prima tradotto in Marocco a Casablanca però gli egiziani hanno considerato l'arabo marocchino non abbastanza universale per cui l'hanno ritradotto in Egitto si in egiziano arabo egiziano è stato tradotto in ebraico è stato tradotto in turco e in giapponese in giapponese in giapponese che è anche una cosa molto curiosa perché il Mediterraneo comunque un universo sì uno potrebbe non essere sorpreso dalle traduzioni turche o israeliane giapponese però insomma è anche vero che qualcuno potrebbe anche dire perché no in fin in fin dei conti allora già che ci siamo cos'è proprio questa polifonia mediterranea di cui di cui siamo parlati lo spunto proprio della polifonia mediterranea è arrivato proprio da queste molti molti traduzioni e tutte traduzioni molto molto interessanti cioè molto fatte fatte bene e allora abbiamo fatto una ricerca filologica abbiamo cercato tutti i libri con grande aiuto devo dire della vedova matvevich mira matvevich e sania roitz che ci ha aiutato molto per cui abbiamo acquisito e tutto questo anche interessante perché abbiamo trovato 12 non volevamo fare di più 12 lettori in lingua originale delle 12 traduzioni di mediterraneo breviario e tutti che vivono a trieste per cui sono tutti i triestini stranieri triestini qualcuno naturalizzati la gran parte no ma sono sono tutte le persone che vivono e che erano disposte a prestare la loro voce sì che abbiamo fatto nello studio di nella casa della musica nello studio di ingegnere del suono su fulvio a zaffret urban recording studio e sono io volentieri li leggo tutte perché perché penso che veramente come un ringraziamento personale e anche di del tutto il progetto allora sono in greco legge nina alexopoulos margherita bravo alonso e spagnolo giorgi bulfi albanese ruggiero calic turco tiago cotogni portoghese white heineken tedesco jannin fingale ebraico nika furlani sloveno mitsugu harata giapponese pascal jano francese mila lasic croato hasna naghi arabo a angela walker in inglese e devo dire che la gran parte di loro hanno sentito ma nessuno non ha letto breviario mediterraneo e tutti si sono molto appassionati si quando hanno hanno letto queste tre quattro pagine allora abbiamo acquisito le loro voci e le abbiamo un po trattate come se fossero le note ok dipende dal timbro delle voci ma anche anche da tutta la melodia della della lingua tutti hanno letto le stesse quattro pagine no 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 non tutti hanno letto le stesse quattro pagine ma hanno letto diverse cose alcuno potevano scegliere quello che gli era più appropriato ovviamente li abbiamo un po raccontato delle parti e così e su alcuni hanno letto quello che avevamo perché non avevamo tutti i libri avevamo certe fotocopie per cui non era facile poi dopo le avete adesso non so se termine corretto e mixate o comunque diventa appunto una una polifonia ma diventa anche una adesso faccio un salto in greco che chiedo scusa una califonia nel senso c'è un'armonia ci sono di viene forma una bella voce unica ecco in pratica ma alla voce unica non perché sono l'idea era di fare sempre come onde no come allora diciamo onde che di cui parla molto ma tre c'è anche nel suo libro che sono molto varie ma anche anche la storia anche gli scontri e incontri anche gli scontri e le pacificazioni per cui abbiamo abbiamo tentato di fare questo questa diciamo non è mai è armonioso è armonioso e abbiamo diversi diversi livelli no con due lingue parallele dopo si aggiunge qualche altra dopo arriva arriva quasi alla cacofonia ma non è mai una cacofonia e cresce come una babilonia per dopo di nuovo diciamo scendere no volevo facciamo una riflessione anche su questo no nel senso che è bello io non lo sapevo è bello che 12 persone che non sono nate a trieste ma che vivono a trieste abbiano accettato di fare questo anche perché dà l'idea che questa città che fino a qualche tempo fa tempi anche relativamente recenti potremmo dire era piuttosto chiusa era piuttosto refrattaria a questo tipo di questo tipo di operazioni è bello sottolineare che da qualche tempo senza che ci sia stata come posso dire una presa di posizione ufficiale no però anche grazie al mondo della cultura anche grazie a questo tipo di iniziative si è si sta superando stanno superando muri si stanno superando barriere che non erano nemmeno barriere culturali perché poi in fin dei conti proprio perché si sono superate con facilità voleva dire che queste barriere erano probabilmente state edificate su niente o su qualche cosa che si è sgretolato abbastanza velocemente è un momento molto particolare secondo me per la città perché è un momento in cui la città guarda giustamente al proprio futuro economico eccetera ma può farlo proprio perché pare che le vaghe componenti non senza difficoltà ma stiano andando avanti unite insomma senza divisioni sì credo che questo potrebbe essere anche una un messaggio che è arrivato direttamente anche da matuevich che lui era comunque non dobbiamo dimenticare che lui era anche un figlio di emigratio no suo padre che era di odessa e per scappare dai bolshevichi è venuto venuto a mostrar e sua madre era croata per cui è lui stesso è scappato scappato e ha deciso di e di prendere questo asilo esilo come lui spesso diceva no in francia dopo in italia lui naturalizzato dal 2006 diventato cittadino anche italiano per cui lui anche credo che che spirito della della sua scrittura ma anche della sua ricerca perché lui ha fatto prima prima è uscito dopo diciamo ma parallelamente ha fatto grande studio anche sul pane e proprio il pane in tutto il territorio mediterraneo questo andava a pari passo con lo studio sul mediterraneo per cui lui sempre considerava che non è che non c'è una unica verità e ha detto se il mediterraneo non è solo la geografia mediterraneo non è solo la storia mediterraneo è la culla dell'europa e in effetti lui lottava ci si cercava cercava di introdurre lo spirito del mediterraneo allo spirito dell'europa perché ha detto che l'europa è diventata troppo continentalizzata capito e però lo spirito del mediterraneo è molto più fluido e sono tutte le culture la non è con tutte le culture con tutti gli sfaccimenti con però però europa è diventata come la frontiera la frontiera del mediterraneo che è sicuramente quello che lui non non voleva no sì 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 ho capito tra l'altro mi chiedo se sono cose elucubrazioni mi chiedo cosa avrebbe scritto per esempio anche fulvio tomizza di della situazione che che si sta che si sta creando perché alla fine nonostante tutto quello che si possa pensare c'era ha avuto ragione tomizza ecco voglio dire nel senso ciò a cui stiamo ripeto stiamo assistendo ad una come chiamava presa di coscienza non so una piccola rivoluzione per la trieste di dieci quindici anni fa avvenuta senza che nessuno abbia abbia acceso la riccia ecco insomma un termine che non è non è sicuramente perfetto ecco una adesso la chiamo in causa come come drammaturga tu curano per esempio il noi abbiamo secondo me e lo dico da parecchio tempo un grosso problema per quello che riguarda il cinema italiano che non riesce più salvo rarissimi casi a raccontare il presente della della nazione non adesso una volta questo succedeva sempre da parecchio tempo non c'è più insomma il cinema italiano racconta più la realtà del nostro paese viceversa obbligo si diciamo obbligo del del dramaturgo dello sceneggiatore dovrebbe essere proprio quello di raccontare il presente oppure se non di raccontare il presente di raccontare un passato che però con il presente deve avere assolutamente dei dei legami un momento come questo per chi fa drammaturgia per chi fa regia anche eccetera è un momento particolarmente interessante proprio perché ci sono questi cambiamenti in certi casi anche drammatici o è un momento in cui si sta alla finestra per guardare che cosa può accadere che tipo di che tipo di sensazioni a lei come drammaturga in questo caso ma io credo che è il momento è interessantissimo e perché è un momento di grande crisi ma non crisi quello che parliamo di economica ma crisi proprio nell'individuo crisi culturale e per cui dopo ci siamo molto rivolta a noi stessi no c'è diventa da un lato abbiamo questa crisi generale dall'altro ci chiudiamo e allora ci sono le storie intimistiche le storie intimistiche che possono in effetti proprio descrivere dal in iniziando dalla microcosmo no descrivere molto il macrocosmo per cui penso che diciamo se un input o ispirazione è tanta no e credo che la cosa importante anche se si prendono i testi del passato se prendiamo i testi non so anche mogliero cecovo shakespeare e di attualizzare goldoni anche di attualizzarli ma non di attualizzarli mettendo in scena diciamo ecco così ma sapere sempre quale qual è la ragione oggi per di cui io vorrei presentare proprio quello e qui credo che che è una rivoluzione può anche arrivare anche del teatro se vogliamo per cui penso che ogni testo si presta questo e come sappiamo si può fare un pezzo teatrale un film anche a base di due versi o due una poesia come per esempio tutta questa bellissima mostra che ex pescheria no che è nata in omaggio cioè questa veramente un'idea di rita oriemma un grande studiosa archeologa che è nato tutto da una frase di pre dragmatvevic agli adriatico e mare dell'intimità che lui dice dice qui che in effetti non sono non sono non sono filippo borghi ma li leggo comunque la natura del porto dipende dal modo in cui il mare gli sta dentro l'atlantico e il pacifico sono i mari delle distanze il mediterraneo è il mare della vicinanza l'adriatico è il mare dell'intimità questa è la frase che ha scattato per la mostra si e che dopo ovviamente lei dice si può trarre una drammaturgia da anche da appunto da una frase non necessariamente da un romanzo eccetera in questo caso la drammaturgia è tratta da è ispirata mettiamola così da da un saggio si è la come 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 si lavora cioè come come si il testo diventa un punto di partenza ed eventualmente un punto di arrivo che che qual è il lavoro che in genere insomma ma non è devo dire che che il testo di mattevic sia questo che il pane nostro che abbiamo fatto anche all'interno di un progetto dell'associazione c 0 1 varcare la frontiera e sono i testi talmente talmente poetici e talmente profondi perché c'è tanta ricerca storica la ricerca culturale ricerca poetica matvevic fa un intreccio tra tutti gli elementi che che esistono sul mediterraneo lui parla delle onde e delle correnti marine delle albe e delle della fauna e dei moli delle città delle luci delle acque di qualsiasi cosa lei mi viene in mente è trattato nel libro per cui c'è una una ricchezza di spunti ovviamente noi non volevamo traduire il testo di matvevic per cui da tutto questo testo tra l'altro che abbiamo preso solo il primo la prima parte che si chiama breviare mediterraneo dopo lui riprende nelle carte e riprende come terza parte glossario dove racconta di nuovo tutto questo soltanto da un altro punto di vista dall'altro angolo bisogna trovare cosa vogliamo dire no c'è con i testi che vogliamo leggere presentare allora si trova questa linea i punti che che dopo fanno un po come quel gioco che abbiamo i punti che dopo se uno uno metto una una forma così anche qui è l'idea che vogliamo esprimere si trova proprio nei questi saggi per cui il montaggio delle delle parti ho capito che segue vede questo arco e collega i numerini e collega i punti come come diceva sì ma non necessariamente può anche solo godere nella nella musica delle parole cioè non è non deve essere un impegno forse anche arriva dopo forse uno sente ma dopo dopo riflessione arriva dopo io tra l'altro devo devo fare pubblicamente a i complimenti a milanasi per la messa in scena credo due anni fa se non mi sbaglio allo stabile del fluo di venezia giulia proprio questo periodo del io non riesco purtroppo a ricordarmi il titolo ma è colpa del direttore del teatro stabile del fluo di gare nel senso noi lo possiamo in dialetto tradurre tradurre come come cali gare che era uno spettacolo molto devo dire verità molto bello davvero e lì ha conosciuto filippo borghi perché filippo borghi era uno degli era uno degli interpreti se un bravissimo attore giovane secondo me un attore fine che cerca sempre di crescere esplora cerca nuovi linguaggi per cui volentieri volentieri lo seguo ecco è questa sua esperienza anche questo no è una cosa che fino a qualche tempo fa sale ma questo succede più più spesso cioè lavorare in in una struttura diversa per lingua per tradizione immagino sia uno stimolo per un per un per un drammaturgo e per un regista cioè portare qualcosa di sé cogliere qualcosa qualcosa di altrui penso debba per forza funzionare così sì ma non è una di nuovo un intreccio perché in effetti testo testo originale era di dusan kovacevic che una come diografo molto molto famoso serbo e allora anche le diciamo la commedia serba quanto può essere adeguata alla come un ambiente triestino italiano perché questo era la prima volta in assoluto che lui stesse presente in come come commediografo in italia secondo me c'è questo universo anche comune no molto più di quanto molti possono essere disposti ad ammettere e tra l'altro anche la parla di una una situazione un po borghese un po di dd della chiusura di certi personaggi di questo scambio della realtà una doppia realtà no che che realtà della dell'infanzia e quello smarrimento nella quotidianità odierna di un vecchio professore per cui penso che ci si poteva anche riconoscere in questo per cui sì secondo me era molto molto bello un sentire comune nostro adesso non so poi dopo analizzarlo analizzarlo meglio laddove ci sono dei legami più cogenti fra matvejevic e proprio trieste ma matvejevic a trieste era un po a casa dire che che lui qualsiasi diciamo ai convegni e così dopo aveva anche amici a trieste sia lui che che sua moglie per cui lui era molto spesso e volentieri oltretutto anche collaborava io mi ricordo quando abbiamo fatto con le edizioni comunicarte un graphic novel di della clacocer che io ho chiesto a matvejevic se lui perché parlava parlava di un anno dell'inizio della guerra in yugoslavia no tutto sul mare e allora io ho chiesto di nuovo di nuovo mare sì e abbiamo chiesto a matvejevic se volesse fare una prefazione lui l'ha fatta e dopo lui era molto generoso diciamo anche come come personaggio ma era anche presente più volte agli avventi culturali i convegni per cui si era molto legato anche all'italia e parlava anche che l'italia non sa valorizzarsi abbastanza bene lo ha detto io da neo italiano posso dire questa critica no perché ci sono talmente tanti elementi ottimi elementi e l'italia fuori vista in una maniera molto positiva persino a diceva anche durante il fascismo nessuno non ha pensato né se nelle isole né in bosnia che l'italiano soldato italiano è quello cattivo per cui si era legame forte con l'italia sicuramente queste sono quelle cose che da un lato ci ci come dire ci fanno piacere dall'altro ci fregano sotto altri sotto altri aspetti no perché poi c'è sempre questo nostro atteggiamento effettivamente che fa che fa in modo che non facciamo mai i conti con noi stessi e grava perché noi siamo sì effettivamente è abbastanza è abbastanza ficcante come si comunque lui ha scritto questo molto bene per cui chi viene allo spettacolo in filippo borghi parlerà di questa cosa anche dell'italia allora ricordiamo l'appuntamento che va in scena mercoledì per la prossima settimana mercoledì 7 febbraio alle ore 20 e 30 al teatro miela è uno degli eventi collaterali della mostra nel mare nel mare dell'intimità sì si va i biglietti si acquistano al miela se i biglietti si acquistano al miela ma credo che ci sia comunque sul sito c'è questa agevolazione perché prima c'è una visita gridata da rita oriemma e chi ha il biglietto della mostra entra gratis al miela per cui è una cosa ma guardate piuttosto sul sito sul sito si trova si trova tutto quanto ormai è facilissimo anche muoversi o telefonare nel miela chi preferisce cosa grazie allora mila lasvic per essere stata nostra ospite grazie a chiacchierare con lei dopo la pubblicità cambiamo argomento allora seconda parte di trieste in diretta e nostra ospite la dottoressa luana poleis consulente formatore grazie per essere venuta venuto a trovarci con la quale indirettamente fra l'altro parleremo di alcune tematiche che abbiamo trattato anche anche ieri parlando per esempio abbiamo incominciato parlando delle baby gang poi si è in qualche modo andati a discutere di famiglia perché poi fondamentalmente tutto parte dalla o tutto quanto poi in qualche modo arriva alla arriva alla alla famiglia e quando noi parliamo appunto di di famiglie dottoressa siamo ormai la famiglia tradizionale esiste ancora però insomma esistono anche concetti di famiglia molto molto particolari eccetera stamattina c'era sul piccolo un annuncio come si dice un necrologio dove devo dire la vita con molta eleganza era stato risolto il fatto che la persona deceduta avesse due mogli insomma adesso 32 moglie nel senso avesse un bigamo era avesse appunto la moglie e la madre dei figli ed è stato un modo molto molto bello per partecipare a quel lutto io chiedo scusa se a qualcuno di questa famiglia magari sarà in ascolto e ho banalizzato un pochettino la cosa e l'ho utilizzata per incominciare a parlare di questo ma mi mi ha fatto venire in mente anche anche questo no noi parliamo spesso di famiglia allargate tutti questi concetti eccetera quando si può parlare di famiglia interrotta famiglia interrotta si può parlare ogni volta quando c'è un problema all'interno di qualsiasi tipo di famiglia quando c'è qualcosa che interrompe il normale funzionamento delle famiglie li parliamo di famiglie interrotte la famiglia come detto lei prima io direi un micromondo è un concentrato di tante personalità che per una questione di emozioni sono tra virgolette costrette si ne ho capito però alla fine anche per scelta di vivere insieme e quindi mettere d'accordo tanti caratteri che magari due si incontrano si innamorano e poi formano una famiglia e dopo la famiglia si allarga e ci sono altri caratteri che poi vengono comunque a toccare l'equilibrio della coppia e man mano che si cresce questi equilibri possono essere costanti ma possono avere anche delle difficoltà e quando la difficoltà è tale e la comunicazione viene interrotta si può parlare di famiglie interrotte ho capito quindi non c'è il concetto non non investe in una famiglia che si divide ma proprio manca il dialogo non c'è più il dialogo di un tempo non c'è più l'armonia che probabilmente c'era in questo caso si può parlare di famiglia interrotta sì non come diagnosi definitiva di separazione di qualcosa che non è recuperabile quando c'è qualcosa di interrotto pensiamo come ad una strada anche una famiglia una propria strada che viene interrotta può essere riparata tra virgolette trovare una strada alternativa proseguire insieme oppure trovare ognuno la propria strada anche perché questo è un concetto che a me interessa proprio perché io essendo poi figlio unico quindi non non ho avuto questi non ho avuto i problemi di cui sto per chiederle però per esempio quando ci sono delle famiglie dove ci sono più figli e poi anche magari quando il numero dei figli è abbastanza numeroso cosa abbastanza rara magari in questi tempi però quando sono tipo quattro figli eccetera e io penso che quando questi figli crescono ci sono appunto quattro persone completamente diverse completamente diverse fra loro e essendo quattro persone e non più e non soltanto quattro figli è facile che ci siano delle simpatie delle antipatie anche all'interno della stessa famiglia magari sotto traccia magari anche non succede ed è meglio però dire è quasi è quasi naturale che venga a crearsi una situazione di questo genere proprio perché non tutti sono uguali non tutti sono uguali ma ci sono varie teorie su come un individuo si sviluppa nella propria famiglia da quando nasce fino a quando diventa una persona adulta una di queste che è molto interessante dice che noi dovremmo smettere di chiamare i nostri genitori mamma e papà quando arriviamo all'età adulta e cominciare a chiamarli per nome per nome per una questione psicologica per fare tipo un passo non definitivamente che lo perdono il loro ruolo ma perché perché mamma e papà sono delle figure che diventano delle figure interiori e noi li portiamo dentro come esempi come qualcosa che abbiamo interiorizzato e quando cresciamo a tutti noi è successo abbiamo iniziato a conoscere i nostri genitori come persone non più come mamma e papà ma per capire il quadro un po più ampio e quindi chiamandoli per nome diamo anche la possibilità a loro di essere persone comuni normali che sbagliano perché mamma e papà non possono sbagliare ma magari non so franco e angela si possono farlo infatti e quindi proprio questo screzio magari anche a livello che dicerei caratteriare di una famiglia di quattro membri piuttosto che due o sette magari potrebbe avere un attimo di comprensione in più sì perché salterebbero i ruoli definiti e quindi non essendoci ruoli definiti ognuno potrebbe essere più se stesso questa storia dei nomi mi corregga se sbaglio perché questa mia conoscenza deriva o da film o da libri mi sembra che sia più semplice in in altre in altre nazioni per esempio in america è abbastanza facile che il figlio chiami il padre per nome o addirittura sì sì noi abbiamo persino difficoltà a riferirci ai nostri genitori non chiamandoli mamma o papà anche quando parliamo con altre persone laddove in alcuni film specialmente se visti in lingua originale uno dice come sta jack e l'altro risponde jack sta bene jack il padre io direi mio papà sta bene non penserei nemmeno penserei al nome forse in altre in altre realtà è più facile ma sicuramente c'è un fatto a livello di cultura e anche di educazione come sono come siamo nati e cresciuti noi da piccoli anche i nostri genitori non sempre chiamato mamma e papà quelli che sono i nostri nonni e quindi in america c'è sempre stato un approccio un po diverso diverso sì ma pensi che mi madre mi raccontava che lei lei era l'unica delle nipoti che non dava del lei alla nonna perché ancora più formali come rapporti ci sono ancora famiglie comunque dove ci si dà il lei e i genitori quindi ancora presente questo fenomeno di pochissima percentuale però fortuna però è ancora presente e quindi l'america è l'ideale americano se così lo vogliamo chiamare un po lontano oltreoceano in tutti i sensi anche anche senta il quando noi parliamo adesso proprio di conflitti no quando le cose diventano un pochettino più serie perché poi i conflitti appunto possono essere e tra componenti della famiglia possono esserci dei conflitti sul lavoro possono esserci dei dei conflitti appunto tra tra colleghi tra tra famiglie eccetera si fa sempre più strada anche nel nostro paese credo da qualche anno a questa parte il concetto di mediazione e di e di mediatore che figura è questa del del mediatore il mediatore si usa tanto sia in ambito della giurisprudenza ma anche in ambito comunque psicologico e si cerca di di avere una posizione neutrale in questo conflitto cosa si cerca anche l'avevo scritto un paio di giorni fa sono il blog proprio del conflitto perché quando noi entriamo in un conflitto e cerchiamo di avere sempre ragione e cerchiamo sempre di far cambiare idea a quell'altro in realtà il conflitto come finisce finisce che io non cambio idea e magari non parliamo più otteniamo il muso per un periodo di tempo il conflitto non è stata una cosa costruttiva grazie al mediatore il conflitto diventa un momento di confronto ma senza ledere l'identità ma si parla solamente dell'argomento quindi trovarsi magari a metà strada non avere ragione completamente né lei né io però trovare una soluzione che sia costruttiva perché quando parliamo di conflitti un fenomeno che adesso anche grazie alla digitalizzazione voleva la questione i conflitti e le polemiche sono ovunque noi basta che apriamo un po su facebook o su twitter piuttosto che un'altra piattaforma tutti i commenti sono lì per dare un certo tipo di critica di polemica o qualcosa quando in realtà benvengano le critiche ma basta secondo me avere anche un po di buon senso che siano costruttive in tal senso quello che a me colpisce soprattutto di facebook devo dire la verità è che magari ci si parte da che ne so da da un giudizio su un film poi dopo entra in scena questo quell'altro staltro magari rispondono anche persone che non sono nemmeno tue amiche su facebook perché magari il post è pubblico eccetera e magari dall'idea di non so mi è piaciuto dan kirk alla fine se si scorrono a tutti i posti poi c'è gente che si offende che mi dà l'idea che se le stesse persone si incontrassero che ne so in una conviviale e probabilmente si guardassero negli occhi eccetera probabilmente non arriverebbero a determinate cose ci sarebbe sempre qualcuno che fungerebbe senza volerlo magari da mediatore forse sui social il fatto che che ne so non si vede il la persona con cui parli eccetera può scatenare anche istinti più bassi non so è una cosa che istinti più bassi ma anche meccanismi che magari sono più istintuali da un punto di vista che non ho un blocco perché la persona ok non la vedo però alla fine posso battermi in maniera un po più feroce per i miei valori perché se io ho un determinato valore possiamo parlare anche di una cosa un esempio molto banale se vediamo una persona che ad esempio non so è dimagrita tantissimo e gli facciamo questo commento mamma mia non ti ho visto da non so quanto tempo quanto sei dimagrita la persona se voleva farlo si sentirà comunque pagata capito se ipocondriaco si suicida infatti e quindi magari ci chiediamo se fare o meno quel commento di persona se la persona la vediamo su facebook o piuttosto che su qualsiasi altro portale magari non abbiamo questa preoccupazione se la caverà lei da solo comunque gli altri rimedieranno al mio commento se non andava bene ho capito sì 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 c'è un senso di responsabilità più diffuso perché non prendi la responsabilità in pieno ma te la diffondi con gli altri commentatori dove questo è una cosa che mi incuriosisce da un paio da un po di tempo a questa parte perché mi rendo conto di diventare per amore io non voglio dire pericoloso però mi rendo conto che io sto facendo delle gaffe abbastanza clamorose delle volte anche in trasmissione delle spesso in in diciamo così nella vita privata eccetera c'è un meccanismo che regola che regola la gaffe cioè uno non so è stanco quindi non sta non sta attento a quello che dice ma magari non so non ci pensa su facebook è difficile che uno faccia appunto una gaffe perché magari nel momento in cui scrive già c'è un secondo pensiero eccetera momento in cui in cui si parla magari appunto uno per la fretta c'è qualcosa di psicologico che sta alla base della della gaffe in realtà si è pensato che le gaffe siano dovute a qualcosa di inconscio che quindi c'è qualcosa di represso che poi venga fuori in un secondo momento però dare questa è una vecchia teoria da una nuova teoria è solamente dovuto ad un sovraccarico ad un attivo e mentale qualcosa che adesso magari siamo concentrati magari ha in mente quando è in bar e fa una conversazione con un amico un collaboratore e sente qualcuno anche non volendo alle sue spalle che parla e dice qualche parola che per lei non ha senso però perché c'è un sovraccarico attentivo la nostra mente non si concentra più su questa conversazione che abbiamo vis a vis però ci arriva questa parola e facciamo una gaffe ho capito devo preoccuparmi o no questo è un po di riposo non guasta mai ecco in un in un momento in cui appunto gioco forza volenti o nolenti si è io uso il termine stressati non so poi se se è corretto però tutto quanto congiura a farci stressare no i ritmi non solamente i ritmi del lavoro perché sono anche i ritmi della persino i ritmi della vita privata sono abbastanza frenetici frenetici non voglio nemmeno immaginare la vita privata di chi ha figli che deve poi non so andarli a prendere a scuola anche perché adesso c'è questa non ho capito se la legge no no se questa legge sia stata insomma se sono tornati sui loro passi o se bisogna ancora andare a prendere i figli fino a 14 fino a 14 anni da scuola tutte queste cose non voglio nemmeno immaginare la vita la vita delle persone con figli soprattutto di età 13 14 anni che credo sia quella più quella più impegnativa per stressarci di meno per per star più tranquilli eccetera ci sono parecchie come si può dire parecchi pratiche la meditazione insomma fare magari anche ginnastica fare sport però sempre cum granosalis perché sono uno si stressa ancora di più devo correre otto chilometri in tot piuttosto che in un altro eccetera in un simile in un simile contesto parlare per esempio di ipnosi eccetera è qualcosa di troppo eccessivo oppure in alcuni casi aiuta anche anche l'ipnosi a star più tranquilli o quantomeno a far venire fuori determinate cose eccetera l'ipnosi è un'arma se così si può chiamare fantastica che noi ce l'abbiamo in dotazione a livello naturale solo che non lo sappiamo a presente il momento in cui perché della parola ipnosi tu ti è sempre di paura questo è colpa lo dico io è colpa dei film è colpa alcuni romanzi eccetera dove il concetto significa sempre che c'è qualcuno che 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 in mente di fare qualcosa con te ipnotizzato non è così la posso rassicurare che non è così l'ipnosi realtà uno stato mentale sia presente quando nell'arco della giornata fissiamo un punto e ci perdiamo perdiamo la cognizione del tempo ritorniamo ad un certo punto in noi e non ci ricordiamo ricordiamo più di quello che pensavamo un attimo fa quindi è un meccanismo della mente per alleviare la tensione della quale parlavamo prima riguardante le gaff imparare a usare l'ipnosi perché si può imparare perché non è così automatico ci aiuta a ritrovare l'armonia e l'equilibrio e per risolvere dei problemi che magari non riusciamo a risolvere risolvere a livello consapevole perché livello razionale noi possiamo spiegare qualsiasi cosa però se più lo spieghiamo più questo diventa complicato invece grazie all'ipnosi l'uso delle metafore perché in ipnosi si può parlare non è fare un gioco piuttosto che un altro una cosa una procedura molto semplice ma anche molto strutturata nella quale possiamo risolvere dei conflitti che magari sono nostri interiori anche di tanto tempo fa quindi si va ad una ad un'arma dico di nuovo queste perché mi viene come associazione naturale per ritrovare l'armonia la motivazione la risoluzione dei problemi come nei casi non so di ansia di attacchi di pannico di fobie varie eccetera si ricorre spesso all'ipnosi per ma lei diceva noi siamo in grado vuol dire è una com'era l'esatta definizione era qualcosa che noi comunque possediamo ecco insomma è sempre è difficile praticarla da soli si può imparare si può imparare si può imparare si può a che livello siamo e cosa ci serve se vogliamo risolvere qualche problema conflitto è sempre meglio farci guidare ad un professionista quando si tratta ad esempio di sportivi loro imparano l'auto ipnosi che è una sequenza di tecniche che li aiuta magari a concentrarsi meglio oppure ad avere determinati risultati in campo ma come nel caso dei migliori sportivi anche nel caso di persone che soffrono insonnia non sapevo questo ma è invece quando lì quando l'ipnosi viene praticata da un professionista insomma adesso io le faccio una domanda sciocca e le chiedo scusa in anticipo non va più col non si è mai veri la storia adesso da andare con l'orologio fissi questo orologio eccetera sono sempre state invenzioni cinematografiche dei romanzi oppure magari c'era veramente all'inizio una roba di sto genere beh tutto inizia con magari se volo una volta facciamo una versione in diretta di ipnosi sarebbe curioso per dire la verità in realtà si si chiede sempre al cliente di fissare un punto per punto io posso dirle scelga una telecamera fissi una telecamera questo è anche la metafora dell'orologio perché un l'orologio si sposta ma lei lo tiene comunque fisso ho capito perché perché l'ipnosi più facile da raggiungere quando spegniamo le distrazioni livello a livello visuale perché il 90 per cento delle informazioni che abbiamo dal mondo arriva tramite gli occhi e quindi se noi fissiamo un certo punto possiamo vedere una una cosa periferica ma che non ci disturba più a livello anche attentivo ma ci serve per entrare ad uno stato alto di concentrazione e quindi si inizia proprio così o uomo io non ho un orologio però uso altre altri modi ma e quando e quando invece la l'ipnosi finisce come finisce cioè lei dice al al paziente si non guardi più non fissi più quel come funziona fa così no 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 a questi livelli no l'ipnosi finisce nel momento in cui il cliente sente di aver raggiunto un determinato scopo e si può invitare il cliente a svegliarsi a svegliarsi da questo stato di concentrazione profonda e si fa un conto alla rovescia oppure si richiamano i sensi eccetera molto molto semplice quando la terapia diciamo ipnotica viene proposta nella maggior parte dei casi il cliente appunto sobbalza un attimo oppure oppure no nel senso è accettata ormai non c'è quella così così è un po come dicerei sotto l'influenza di vari film varie cose che purtroppo ci hanno fatto distorcere un po la visione di queste cose che sono molto semplici le persone hanno un po paura di questo di questa cosa ma in realtà non dovrebbero averla perché sai di cosa hanno paura perché se hanno paura di di adesso di quello che uno può fare appunto mentre sei sotto ipnosi oppure di quello che loro stesse potrebbero fare sotto che secondo me perdere il controllo perdere contro ci siamo sempre la anche se è importante importante sottolineare che in stato di ipnosi nessuno può può indurti a fare qualcosa che non vuoi ho capito quindi perché uno si sveglia ho capito e quindi qua quindi non è non c'è possibilità di mano manipolazione a livello leonardo di caprio nel famoso film eccetera qual è in section che parla proprio di ipnosi infatti è vero no io io sono rifermo al film di woody allen la maledizione dello scorpione di java che è più che più nelle mie corde rispetto ad inception e un'ultima cosa perché siamo già in ambito terapeutico poi qual è anche l'uso delle fiabe magari non non pensa che siano utilizzabili che siano utili l'uso delle fiabe collegato un po all'uso anche dell'ipnosi perché ogni volta quando noi raccontiamo una fiaba piuttosto che una storia se vogliamo chiamarla per per i grandi un romanzo ovviamente molto più breve noi andiamo a dare una metafora al nostro cliente tutti noi parliamo di metafora anche noi all'inizio abbiamo iniziato a parlare di metafore quando parlavamo di famiglia io ho parlato di strada si ho capito una strada una metafora e io posso costruire una fiaba magari basata sulla metafora della strada che sempre a livello individuale della famiglia del linguaggio che la famiglia usa e posso magari aprire nuove concezioni sulla risoluzione dei problemi e come quando abbiamo i bambini che hanno non so un determinato problema e qualcuno ti dice ma perché noi leggi una determinata fiaba come c'è una fiaba quando una bambina dice sempre no e quindi si legge ai bambini perché c'è sta bambina che dice qualsiasi cosa la mamma le chiede e questa le dice no ad un certo punto della fiaba la fiaba si gira e la mamma dice sempre no alla bambina e la bambina ci rimane male però ci sono fiabe infatti anche anche per adulti che sono brevi concise però portano un significato molto soggettivo ho capito io ho fatto anche una fiaba prendendo ispirazione da un criceto che dormiva sempre un sacco parlando proprio che lui faceva un sogno poi doveva andare in guerra poi si svegliava poi era un sogno poi non era un sogno un gioco un po anche di parole la cosa interessante era il feedback che ho avuto che erano non so su dieci letture dieci messaggi diversi che la gente ha recepito quindi noi possiamo usare le fiabe in tanti modi diversi ma ognuno si prenderà quello che gli serve e questo e deve essere così immagino c'è tanto più diversi quanto più diversi sono le reazioni tanto più vuol dire che la fiaba e comunque il processo diciamo così funziona il processo giusto vedete che nonostante sia sveglio dalle 5 del mattino sono sono ancora attivo dottoressa la ringrazio moltissimo siamo arrivati già alla alla fine del del nostro segmento la dottoressa luana poleis detto giusto anche anche l'accento consulente consulente forma consulente formatore grazie davvero per essere stata con noi intanto magari se vuole tornare tornare a trovarci possiamo parlare anche di altre di altre di altri argomenti e poi dopo io dovrò trovare qualcuno con cui parlare oggettivamente di tutte le storture che il cinema e certa letteratura voglio dire ha introdotto nella nostra vita quotidiana perché più vado avanti più vedo che per certi aspetti dove sembra che il cinema ci racconti delle stupidaggini dieci volte su nove ci azzecca quando sembra che ci racconti delle cose vere dieci volte su nove siamo presi siamo presi in giro grazie ancora per essere stata con noi dopo la pubblicità l'appuntamento del venerdì con star bene in tv grazie a tutti